Continuano le disfunzioni dovute al digitale terrestre. I disservizi sembrano colpire diversi comuni locani dell'entroterra e del metapontino. La denuncia del consigliere regionale Venezia del PDL che sollecita il presidente della regione De Filippo ed il governo regionale ad intervenire in maniera più incisiva sull'operatore pubblico incaricato di gestire il servizio per dare voce a quanti non hanno la possibilità di accedere ad alcuni canali televisivi in particolare quelli della RAI e garantire un'adeguata copertura in tutto il territorio. Disservizi a parere di Venezia che in alcuni casi dipenderebbero dalla sorgente emittente del segnale e che potrebbero essere risolti semplicemente meglio direzionando le antenne. Attenzione in grado di garantire una fruzione dei canali televisivi in maniera omogenea a tutti i contribuenti ma anche di portare a compimento il processo di modernizzazione del tessuto sociale.